Si vota in 18 comuni della provincia di Foggia, Foggia la città capoluogo va al voto, il segretario di Foggia Davide Emanuele ha già avviato un percorso largo e partecipato, non intendiamo fare tavoli segreti, il segretario di Foggia intende aprire alla città, quindi a tutte quelle persone che vogliono dare un contributo per rendere Foggia migliore e soprattutto per liberarla da questa destra estrema che oggi insieme all'Andella governa la città. Noi lavoriamo per allargare, per tenere dentro tutti coloro i quali vogliono lavorare per cambiare in meglio Foggia, quindi non c'è alcuna preclusione, è evidente che anche il risultato di queste elezioni provinciali, seppur di secondo livello con delle competenze per il Presidente nettamente inferiori rispetto al passato per gli interventi del legislatore, però denotano che delle scelte di valori, di ideali sono importanti, non possono essere messe in secondo ordine perché hanno una valenza anche in termini elettorali che va oltre il 40%.